Però adesso dicevo che abbiamo il momento di un poeta, mi è dispiaciuto la settimana scorsa, l'ho dovuto interrompere, ma lui è un poeta che merita tanto, sto parlando del poeta Capito Biguda! Dere la mano, che educazione, dare la mano, oh, come l'anno nei nuoresi? Cosa c'ha? Cosa c'ha? La tangente all'ina e l'ha morta, scusi, eh? Li metto al caldo! Allora, prego, io l'ho interrotta la scorsa settimana, le devo completare una poesia che l'ha dedicata... A Berito, l'ho dedicata per i suoi... Siamo qui, attaccati, tazzeri, siamo attaccati, c'è il microfono, parla normale! Siccome noi siamo abituati alla... Eh, alla pianura padana! Allora, prego, chiudiamo questa poesia che ha scritto... Dedicata a 73 anni, di Berito, Urgu, punto! Prego! Cosa c'è? C'ho il cavallo che mi tira! Eh, lo tenga legato il cavallo! È un cavallino della giara! Eh, aguanta riddu, prego! Oggi abbiamo riempi... fatto la... C'è anche la gente vadilonga? Ancora vivo, eh! Prego! Un attimo, animali! Delicata a Berito! Cosa c'è lì dietro? Animali ci sono! Macelleria! Ah, prego! Nel mezzo del cammin della tua vita... Eh! ...ti ritrovasti per una selva oscura... Che la diritta via e la smarrita! Oh, prego! Queste sono parole miele! Eh, basta che rendi in bocca! Sono ormai 73 e si vedono tutti! Ma tu fai ridere sempre belli e brutti! Prima a 30 anni eri un ragazzone, poi a 40 un allegrone! Ah, pensavo perché ce l'arrivenone se li conosco! No, lei non mi può! Eh, prego! 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 Che... Scusi! Poi a 50 il Viagra ti aiuta, mentre a 60 farai scena muta! Eh, non ci credo! A 70 sei nonno, sdentato e sbiancato, a 80 bisnonno e un po' stontonato! Per i cento e sicuro, la tua vita sarà bella, ricca e grassa e sabbagassa! La pelle è dottia, guardi! La pelle è dottia! E' successo anche a me! Ma chi c'è lì fuori? E' se vero, e' se vero, e' se vero, e'è! Cosa c'è? E' un greco, che c'è un bestiame, c'è? E'! Aioia! Allora, allora, scusate! No, scusate! No, voi mi la leppi andate! No, no, scusate! State dando fastidio! Ma aspetta! Non disturbate, un attimo! Ma, scusi! Silenzio! Sì, si, 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 si! Ma, scusi, dà fastidio o disturba? Disturba! E allora non dà fastidio! D'acchio, ma penaglio! No, guarda, scusi, scusi, dà fastidio, scusi! Sì, 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 sì! Allora, eh, dà fastidio! Cosa? E allora, cosa? Cosa? Aspetta! Cosa? E? 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 Non si può ferrare, non si ferma! Ma! E? State dando, state dando fastidio! Silenzio! Silenzio! State dando fastidio, scusate! Ma, scusi, dà fastidio o disturba? Disturba e dà fastidio! E allora non dà fastidio! E? Sì, sì, sì! E? Sì, sì, sì! E? 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 Lassate il perché? Pika su Kado, Rekoru a ti cambiare? Tu, viste il ballare? Tu, viste il ballare? Toga di ci un ballare? E? Ah, scusate! Ah, per bandare? E? E un attimo! Fai, 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 fai! E? ci stanno lamentando che state dando fastidio ma scusate non è che mi è un casino